Il Lions consegna ufficialmente nelle mani della Sindaca Francesca Valenti le mattonelle che verranno installate in Piazza Angelo Scandaliato. Si tratta di un progetto che il Lions ha sostenuto, promosso e che adesso potrà finalmente vedere la luce nei prossimi mesi. Sì, finalmente si porta a termine un progetto che è già da mesi in costruzione. È un progetto che è cominciato già qualche mese fa all'interno del nostro club con la proposta del nostro socio, l'architetto Bono. È poi approvata e poi via via portata avanti fino ad oggi, un giorno in cui possiamo dire orgogliosamente che possiamo consognare queste bellissime opere d'arte al comune di Sciacca. Si tratta di mattonelle in ceramica che raffigurano gli stemmi nobiliari delle famiglie che hanno fatto la storia e dato lustro a questa città. Sì, raffigurano degli stemmi delle famiglie nobiliari. Il nostro intento è quello di avvicinare il turista non soltanto alla visione degli stemmi che è già di per sé bellissima, ma richiamare tutto quello che queste famiglie hanno fatto a Sciacca. Perché in realtà dalla curiosità per lo stemma alla famiglia a cui apparteneva questo stemma, poi può nascere tutta una ricerca di tutto quello che queste famiglie hanno lasciato nella città di Sciacca. Ed è un gran bel patrimonio. Il Lions consegna ufficialmente nelle sue mani queste mattonelle in ceramica bellissime che raffigurano gli stemmi nobiliari delle famiglie che hanno dato lustro a questa città. Un progetto che è partito con la precedente amministrazione e che adesso continua con la nuova. Certo, bellissime. Tra l'altro le ho potute vedere proprio adesso sono delle opere d'arte, sinceramente. Quindi complimenti, grazie a Lions per questa bellissima iniziativa che vale ad arricchire ovviamente la nostra piazza e quindi si provvederà più presto affinché possano essere messe e quindi possano diventare fruibili per tutti quanti.